Ciao a tutti, sono Simone, faccio parte del supporto tecnico di HDL Italia. Quest'anno siamo qui a Barcellona insieme a Connex. Finalmente siamo tornati alla fiera ISE, tanto attesa, e presentiamo il nostro stand. Tra le grandi novità abbiamo la serie Tile, con il nuovo pannellino, con a bordo dei contatti Relais. Quindi per impianti vecchi da rifare si potrà benissimo integrare la nuova serie, riutilizzando il cablaggio già esistente. Tra le grandi novità abbiamo sviluppato nuovi server, quindi abbiamo incrementato la portata dei dati e abbiamo sviluppato una nuova applicazione con una nuova interfaccia grafica completamente revisionata, molto semplice da utilizzare, con sempre suddivisione dei vari locali e il controllo di scenari. Il cliente in questa applicazione potrà anche crearsi degli automatismi da solo. Vi aspettiamo allo stand Connex, padiglione 2 M400. Ci vediamo presto qui in ISE. Ciao a tutti!